In un clima festoso e rilassato, i partner del piano territoriale Graies Lab hanno partecipato a Torino venerdì 10 marzo, presso la sede della città metropolitana, all'evento conclusivo. A fargli onore di casa la consigliera metropolitana Sonia Combo-Ursano e la presenza degli assessori regionali Fabio Carosso per la Regione Piemonte e Luciano Caveri per la Valle d'Aosta. Il piano territoriale Graies Lab, inserito nella programmazione Interreg Alcotra 2014-2020, ha avuto un finanziamento di 8 milioni per lo sviluppo di generazioni rurale attive, innovanti e solidali, capaci di consolidare la presenza di nuove popolazioni e generazioni sul territorio montano. Innovazione delle imprese, mobilità sostenibile, turismo intelligente, qualità della vita e dei servizi nelle zone montane e rurali, sono stati oggetto dei singoli progetti che compongono il Peter, tenuti insieme anche dal metodo di lavoro basato sulla condivisione e co-creazione. Molti gli obiettivi raggiunti che sono stati riassunti nell'evento finale e che lasceranno senza dubbio il segno nella prossima progettazione. È una sorta di piccola politica estera, molto concreta, che da una parte crea e ricrea dei legami storici che abbiamo avuto in larga parte con Casa Savoia, ma in un senso moderno, facendo lavorare assieme anche piccoli comuni, ma anche le regioni. Quindi ritengo che sia sempre un esempio virtuoso. Il periodo di programmazione che ci porterà fino al 2027 è pieno di grandi speranze e lavoreremo per questo. I fondi Alcotra sono molto importanti e hanno una dotazione capiente. Parliamo di oltre 150 milioni di euro a disposizione solo per le nostre regioni. Dobbiamo lavorare, fare progetti integrati, fare progetti importanti. Chiaro che non bisogna dimenticare le piccole realtà, ma la cosa più importante, come dicevamo, è fare dei progetti che abbiano la ciccia in termini molto pratici. Perché se noi dobbiamo ragionare con piccole località e mettiamo poche risorse a disposizione, non vediamo la crescita di questi territori. Quindi quando parliamo di strutture, di infrastrutture, di servizi, devono essere integrati, devono essere grandi e capienti. Per cui i progetti devono essere solidi, con tanti denari da poter spendere. Dobbiamo sentire sempre di più, quindi con una grande concertazione sul territorio, quelle che sono le necessità per poter fare sviluppo e crescita.